Buon sabato mattina cari telespettatori di Fano TV eccoci qui come tutti i giorni alle 7.30 puntuali per la rassegna stampa Occhio ai giornali insieme a voi sfoglieremo le pagine della cronaca locale e di resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico sono già pronti sul nostro trust screen e quindi fra poco lì guarderemo non prima però di aver visto il Santo del Giorno e poi le previsioni del tempo oggi 5 dicembre Beato Nicolò Stenone il sole è sorto alle 7.25 e tramonta alle 16.52 Vediamo le previsioni del tempo, partiamo dalla nostra centralina meteo che rimanda appunto a una temperatura di 9.30 gradi e mezzo e questa è l'immagine della webcam che come vedete ci mostra un cielo denso di nubi e carico anche di umidità e in effetti entrando più nel dettaglio vedete anche la simbologia cartografica della protezione civile ci dice nubi molto molto basse e naturalmente anche scure possibili precipitazioni, qualche debole e isolato piovasco nel settore meridionale della regione vedete anche la simbologia della nebbia sulle zone montuose della regione anche per domani e domenica cielo nuvoloso e nubi basse, fascia costiera interessata, parziale dissolvimento nelle ore più calde poco nuvolose invece su fascia costiera e collinare per il resto della giornata però non dovrebbe piovere, precipitazioni assenti quindi e le temperature sono in lieve aumento vediamo come inizia la settimana, lunedì prossimo anche qui vedete nubi cariche di precipitazioni che però non ci sono, sono assenti le precipitazioni però le nubi sono basse e di colore molto molto grigio insomma saranno un inizio di settimana non all'insegna del sole guardiamo i giornali come sempre partiamo da la cronaca locale e a Fano andiamo con il Corriere Adriatico che ci riporta una notizia che avevamo affrontato anche nei mesi scorsi parliamo dell'ambito territoriale 6, la procura indaga per abuso e falso Sonia Battistini impugna il licenziamento e querela per diffamazione il segretario Renzi vedete qui nelle due foto, le due protagonista, a destra Sonia Battistini e Antonietta Renzi il segretario regionale, quindi si riparla di ambito territoriale 6 che arriva in procura e ancora nelle pagine di Fano, rimaniamo nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico si parla di aeroporto, aeroporto operatori in fuga tre se ne sono andati a parlare Santorelli e un altro chiede i danni e quindi l'amministratore delegato della società Fanon Fortuna e nonché Presidente è amareggiato per questa svolta dopo aver lavorato tanto nell'aeroporto, aver risanato anche il binancio lamenta appunto questo stallo burocratico sulla pista di cemento che procura danni in termini sia di immagine che economici per l'aeroporto e quindi insomma chi pagherà i danni subiti dall'economia locale in termini di perdita di posti di lavoro e di indotto questa è la domanda che si fa Santorelli e poi vediamo che qui di spalla è riportata un'altra vicenda insomma che ci riguarda da vicino la Fano Grosseto, il Vice Ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini lunedì sarà a Fano per illustrare appunto il completamento di questo progetto Fano Grosseto un miliardo per finirla in 5 anni e quindi lunedì pomeriggio nella sala San Michele illustrerà il progetto il Vice Ministro rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico andiamo nella Val Cesano qui vicino appunto Marotta si riparla di Outlet e inizieremo i lavori entro il 2016 accelera l'assessore Lucchetti subito incontro con Espandia Varotti però dice il PD ha tolto la maschera perché appunto non molla neanche Confcommercio Losso che dice appunto i Democrat sono contro i negozi di vicinato e la vita dei centri storici e l'altra pagina del Corriere Adriatico che riguarda Senigallia però andiamo nella vicina Senigallia il sindaco Mangialardi dice stiamo rispettando gli obiettivi si parla appunto di opere, di infrastrutture e nel 2016 porterà Labaretella a sud della complanare più spycam per monitorare la sicurezza della città e interventi sul fiume Misa il fiume Misa che ha sicuramente procurato tanti danni alla città di Senigallia poi anche qui tre mercati settimanali in zona stadio per le festività e quindi lo shopping festivo guardiamo la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico dove si parla dell'incidente che è costato la vita al 23enne sulla Monte Labattese e appunto il titolo è questo schianto all'alba muore un ragazzo di 23 anni l'incidente è lungo la Monte Labattese mentre si stava recando al lavoro purtroppo ha invaso la corsia ed è finito contro un camion lunedì l'addio nella parrocchia di Sorria una vita difficile quella che aveva percorso il 23enne però aveva trovato il suo equilibrio facendosi apprezzare anche nell'azienda dove aveva trovato il lavoro e di questo incidente ne parla anche il resto del Carlino nella prima pagina nella pagina di apertura della cronaca locale e vedete qui c'è la foto dello schianto sia il camion che la macchina del ragazzo lo scontro è avvenuto sulla Monte Labattese appunto perde la vita sul colpo un operaio di 23 anni e poi anche altre notizie che sono riportate però anche all'interno dopo le guardiamo Valentino e quell'infanzia difficile nella pagina 4 e nella pagina 5 si parla appunto della vita insomma si fa un po' la si ripercorre la storia di questo ragazzo aveva avuto l'aiuto da una famiglia di sostegno appena insomma dopo un anno dalla sua nascita e sono disperati i titolari della vita dove si stava facendo apprezzare parla a chi lo conosceva bene come Andrea Perugini e dice che ha sofferto così tanto fin da un bambino e ora guardiamo insomma purtroppo come è andata a finire e anche Alessandro Fanfani dice aveva l'alternativa se fare la strada sopra o quella sotto si parla appunto del percorso per andare al lavoro e purtroppo ha scelto quella sbagliata ma era solo un ragazzino e insomma sulla Monte Labattese veramente non bastano le idee di una mano per contare gli incidenti che ci sono stati ancora nelle pagine di Pesaro del resto del carrino campus e viabilità si parla di un punto cruciale della città di Pesaro soprattutto nell'ora in cui c'è l'uscita delle scuole la protesta all'osservatorio, alle infrastrutture gli orari critici sono appunto quelli e si concentrano lì appunto le scuole il traffico è insostenibile a inizio e fine lezioni e poi sicurezza, il progetto di le strade di Luca in questura arriva anche un defibrillatore a disposizione degli operatori e di quanti frequentano appunto la questura rimaniamo nelle pagine del resto del carrino vi faccio vedere però quelle che riguardano Fano anche in quella di Fano si parla di aeroporto e dello sfogo di Santorelli e appunto braccio di ferro sull'aeroporto fra Enac e Ufficio Ambiente della Regione a rischio di investimenti per Enac che vuole mettere a disposizione i soldi per fare la pista in cemento dice la valutazione di impatto ambientale non è necessaria per noi invece la Regione la vuole e questo braccio di ferro infinito porta a una situazione di stallo con i conseguenti insomma contraccolpi in fase in termini di occupazione e di operatori che se ne stanno andando tre appunto basati a Fano hanno già disdetto importanti accordi commerciali e Santorelli appunto è durissimo anche uno dei tre soci insomma la Camera di Commercio ha battuto i pugni sul tavolo dice se l'aeroporto va avanti così noi lasciamo insomma la società e quindi insomma conseguenze sicuramente non facili per l'aeroporto per cui Santorelli rincara la dose per insomma dare un po' una smossa a questa situazione si parla anche nelle pagine del resto del Carlino dell'incidente che è avvenuto alla rotatoria di Bellocchi anche questo costato la vita a un pensionato i funerali di Salvatore Lamacchia non saranno celebrati non prima di lunedì e ora Fano riflette sulla rotatoria l'illuminazione è scarsa dopo l'incidente mortale in via e in Audi la compagna che era a bordo della macchina che vedete qui nella foto del resto del Carlino una lancia Y che è stata praticamente frantumata dall'impatto con il SUV Alessia sta meglio in un primo momento le sue condizioni sembravano pesanti ma tutto si è risolto con un trauma cranico per la 41enne invece gli altri occupanti appunto del SUV hanno riportato le fratture alle costole e contusioni guaribili in 30 giorni mentre il conducente del SUV si è fratturato solo una mano e festa di Santa Barbara si parla appunto delle celebrazioni avvenute ieri al porto due studenti portano il tricolore celebrazioni appunto che hanno visto sia i militari della Marina che i vigili del fuoco i pompieri e il Vescovo dice persone che contano di più sono quelle che si spendono per gli altri e sicuramente questi due corpi lo fanno con grande abnegazione e grande senso del dovere e poi nelle pagine sempre di Fano del resto del carino si parla di un convegno che si tiene a Palazzo Pitti a Firenze dove si parla di imprenditoria vincente come esempio per dare qualche consiglio anche agli altri imprenditori è stato organizzato da Unicredit il forum a Firenze con naturalmente due casi particolari emblematici della nostra provincia Guerrieri l'azienda agricola e anche le Denbiaggi con Nardo Filippetti forum per discutere sugli scenari e su come può una banca appunto aiutare le aziende italiane a vincere questa sfida di internazionalizzazione e insomma queste due aziende certamente l'hanno vinta e quindi possono essere un esempio anche per le altre guardiamo l'ultima testata che vi proponiamo sempre nella nostra segna stampa il messaggero in grande evidenza però nella pagina di apertura insomma della pagina dedicata alla cronaca locale Fondazione Cassa degli Spai si cambia si parla di banche in modo particolare di due questa è una la Cassa degli Spai che cambia i suoi vertici Marco Cangiotti subentra Sabatini momento delicato ma non lasceremo i territori e poi nuova banca manche ecco il fondo salva risparmi la proposta arriva dal Parlamento e poi insomma fotonotizia l'incidente sulla Monte Labattese ed è stato trovato un cadavere carbonizzato di donna nel cimitero siamo nei pressi di Tavoleto e salvagente appunto per i risparmiatori di banca Marche fondo di solidarietà e scomputo IRPEF due proposte all'esame di Parlamento si parla con il governo il presidente di Consob obbligazioni chi le stipulava era informato e quindi è sicuramente responsabile nei confronti di coloro che le hanno sottoscritte nelle pagine del messaggero di Fano si parla anche di una scultura di una scultura che è nei pressi del conservatorio che cambia location il centauro di ferro sfrattato dalla piazza del conservatorio la scultura alta oltre 4 metri verrà probabilmente ricollocata in viale Trieste vicino all'hotel Vienna e la rimozione dell'opera costerà 3600 euro e l'assessore Belloni dice non è più compatibile con il progetto di quell'area nelle pagine invece di Fano del messaggero si parla di ospedale ospedale e sua collocazione il PD provinciale ha scelto Fosso Seiore il segretario Gostoli Pesore e Fano discutano come una grande città ripartiamo da valutazioni scelte già previste da regione e provincia il sindaco dice un po' accerchiato da una parte i democra dall'altra l'ipotesi di Chiaruccia che sostiene insieme a Sinistra Unita insomma questa è poi la morsa nella quale si trova Seri e appunto anche qui c'è il focus sull'aeroporto e Santorelli chiede certezze sul futuro dell'aeroporto l'amministratore unico di Fano Fortuna preme sulla regione per un incontro chiarificatore ha chiesto un incontro con Luca Ceriscioli e questo era l'ultimo stralcio di notizia che vi facevo vedere per quest'oggi grazie per essere stati in nostra compagnia questa era la segna stampa di Fano TV che torna naturalmente lunedì mattina puntualmente alle 7 e 30 però un saluto va anche a tutti coloro che ci seguono durante le repliche se la volete rivedere poi con tutta comodità sarà presente anche sul nostro sito e per rimanere sempre aggiornati sulle notizie avete a disposizione la pagina Facebook e il nostro sito occhialanotizia.it grazie e buon sabato e buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti